In Abruzzo è partito il countdown per i saldi estivi che avranno inizio sabato 3 luglio. Via Libera quindi a 60 giorni durante i quali si potrà girare la ricerca dell'accessorio, del vestito o comunque dell'oggetto rientrante in determinate categorie merceologiche. I negozianti si augurano che l'avvio dei saldi sancisca il ritorno dei clienti allo shopping nei negozi fisici, un auspicio che segue la normalizzazione della situazione sanitaria, che comunque non esenta dal mantenere bene in mente le precauzioni, dall'uso della mascherina all'interno dei locali al distanziamento, passando per i gel igienizzanti. Cominciamo sabato, sicuramente un'ottima occasione per i clienti che verranno e per le persone che saranno in città. Siamo fiduciosi, mettiamola così. Il tema di pandemia purtroppo, vista la situazione che abbiamo avuto lo scorso anno con i saldi che sono partiti ad agosto, invece quest'anno torniamo un po' al regime, nel senso che ripartiranno a luglio dal 3 fino al 31 agosto. Ci si augura che ci sia un po' una ripresa per quello che riguarda un po' le vendite, perché a maggio e giugno c'è stata una leggera flessione e quindi la speranza è proprio di recuperare qualcosa. Anche perché ci saranno senz'altro delle ottime occasioni per quello che riguarda un po' i consumatori, quindi vorranno approfittare dalla scontistica che inizialmente partirà come sempre dal 30%, ma logicamente c'è anche chi questa percentuale la alza un pochettino, arrivando anche al 50%. Diciamo che abbiamo iniziato con degli sconti per invogliare la clientela ad acquistare, cercando di recuperare il perso fino adesso, però non è che sia andato alle stelle questo sconto. Speriamo bene nei salti, però già siamo al 30-40%, la stiamo regalando la merce. C'è un invito che vuole fare ai terramani e non solo ad acquistare nei negozi cittadini? Diciamo che nel nostro armadio siamo pieni di merce, adesso le persone sono molto intelligenti, comprano quello che serve. È chiaro che se troveranno il pezzo giusto e il prezzo giusto, sicuramente non se lo lasceranno scappare. Speriamo bene di recuperare ancora qualcosina.